Io mi chiamo Francesco, ho 33 anni e sono un ex ingegnere gestionale. Ho sentito parlare di Herbalife Nutrition per la prima volta circa 8 anni fa, ma in quel periodo ero un neolaureato, inseguivo il mio sogno, trovare il lavoro in un'azienda e avere un ruolo degno delle mie aspettative. Ed è quello che realmente succede, ma raggiunto il livello che mi ero prefissato in azienda, ho iniziato a capire che avevo un problema di qualità di vita, di tempo, e questo intaccava anche sulla vita delle persone intorno a me. Ma la cosa peggiore era la mancanza di visione. Non riuscivo ad avere una prospettiva che mi permettesse di vedere la mia vita futura a un altro livello. È in quel momento che ho ripreso in mano il progetto Herbalife Nutrition reinventando totalmente la mia vita. Ho semplicemente deciso di fare qualcosa. Non ero abituato ad attendere che le cose accadessero. Sono sempre stato dell'idea che fare è meglio di attendere. Mi sono preso la responsabilità di migliorare la mia vita, di conquistare la totale gestione del mio tempo, e soprattutto quello che mi mancava nella precedente esperienza, di conquistare il mio sogno. Ho dovuto lavorare molto su me stesso, ho dovuto acquisire nuove competenze, ho dovuto mettere in pratica le competenze acquisite, molte volte sbagliando, circondarmi di persone che avessero la mia stessa visione, e condividere con loro tutto ciò che avevo imparato. Ho cercato di coniugare la mia professione, la mia passione per il marketing con la mia attività Herbalife, per centrare appieno i miei obiettivi. Nel 2020 ho raggiunto il livello del President Team, e ho continuato a lavorare duro con tanta energia per raggiungere il livello del President Team 15K. Guardando indietro vedo la mia vita molto cambiata, vedo me stesso molto cambiato. Raggiungere questi livelli importanti del piano marketing, in Herbalife Nutrition mi ha dato molta serenità, ma anche molta responsabilità, e soprattutto mi ha dato la consapevolezza che i limiti sono solo nella nostra testa. Oggi ho semplicemente spostato i miei obiettivi un po' più in là, sfidando di nuovo me stesso, guardando al prossimo livello con la stessa energia con cui ho lavorato in questi ultimi anni, con passione, dedizione, gratitudine, e tutte le emozioni che mi porto dietro in ogni singolo giorno di questa splendida avventura.